Una rappresentanza è qui con voi e quindi vi prego di guardare girandovi perché sono alle vostre spalle i quattro alfieri del gruppo sbaglieratori della città di Arezzo. Grazie a tutti. 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 Nel 1864 Chiarezzo pensava di un monumento al suo guido e furono invitati fra gli altri per far parte della commissione artistica che doveva decidere di come doveva essere il monumento, niente meno che Rossini, Verdi e Mercadante. Un saluto particolare al comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Luigi Arnando Cieri e al direttore della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, il maresciallo Egno Robbio. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. i cori, orchestre, musici del Saracino, scuole e licei musicali e a tutte le realtà musicali nel territorio aretino. Un saluto particolare e un ringraziamento al nostro sindaco Alessandro Ghinelli che ha sostenuto la fondazione Guido d'Arezzo e contribuito con entusiasmo alla manifestazione di questa sera. Questa statua di marmo dedicata dalla cittadinanza aretina a Guido Monaco nel 1800 non fa riconoscere questo grande personaggio. Il turista, il giovane e molte persone che visitano e addirittura vivono ad Arezzo pensano che sia una statua dedicata a un frate miracoloso che ha dato il nome ad una piazza di Arezzo per non sassi quale merito. Pochissimi sanno chi era e cosa ha fatto di grande Guido d'Arezzo. Quando sono arrivata per la prima volta ad Arezzo, circa 60 anni fa, forse ero la prima extracomunitaria d'oltre Cortina, ho visto la statua e non mi ha suscitato alcun entusiasmo o ammirazione. Solo in seguito, come musicista, ho scoperto che quel Guido Monaco era il grande famoso personaggio Guido d'Arezzo e solo da allora, quando passo per questa piazza, mi viene spontaneo un sincero, affettuoso saluto. Ogni musicista conosce la grandezza di questo uomo che mille anni fa ha inventato la scrittura musicale, il linguaggio universale che ci permette di esprimere tutti i nostri sentimenti. Crea armonia, sintonia, comunicazione e pertanto è un grande veicolo di pace e unione fra tutti i popoli del mondo. Cantiamo, sogniamo di più, facciamo più musica e meno guerra. Questa targa è voluta dalla Fondazione Guido d'Arezzo, realizzata dall'artista maestro Alessandro Marroni, sponsorizzata da Generosi Arletini, Centro Chirurgico Toscano e Lions Club Macenati di Arezzo. Questa targa è un ponte di mille anni che unisce Guido d'Arezzo ai tempi moderni perché è dotata di QR code che invia elettronicamente al sito internet della Fondazione Guido d'Arezzo dove il turista straniero e qualsiasi altra persona trova notizia di Guido d'Arezzo nella propria lingua. Guido, uomo del mille, fatto conoscere con il linguaggio elettronico del duemilla. Questa targa farà conoscere di più e farà omaggio a Guido d'Arezzo al nome di tutta la musica dell'universo e al nome di tutti i cittadini di Arezzo che così da oggi ricordano al mondo la grandezza di Guido d'Arezzo e della sua opera. Viva Arezzo, viva la musica e permettetemi una frittosa, sincero e confidenziale. Grazie Guido. Grazie a tutti, professoressa. È vero, la nostra città a volte si dimentica dei suoi grandi nel passato. Pochi giorni fa abbiamo ricordato come anche Giorgio Vasari non è stato consacrato quanto avrebbe dovuto. Infatti pensiamo a farvi un monumento equestre in città. Oggi celebriamo Guido d'Arezzo che per noi tutti è per fortuna o no Guido Monaco perché questa piazza si chiama Guido Monaco, il centro della città, siamo tutti affezionati a Piazza Guido Monaco in realtà è la piazza intitolata Guido d'Arezzo e bene ha fatto la Presidente a inventarsi in questo primo giorno d'estate lo voglio ricordare, oggi è una giornata particolare anche di fatto, è arrivata oggi l'estate quindi ci porterà sicuramente bene e quindi onore al merito di questo grande aretino che ha inventato un linguaggio io riflettevo prima mentre ascoltavo la fanfara dei Carabinieri che se avessimo preso quello spartito e l'avessimo dato a un'orchestra cinese o thailandese avrebbe esattamente suonato la stessa cosa questa è la grandezza del messaggio del Monaco Benedettino essersi inventato un linguaggio universale linguaggio che è nato d'Arezzo e quindi non poteva essere non fatta questa giornata che giustamente e intelligentemente la professoressa Tascola ha potuto chiamare Guido Dei in modo che sia noto e pronunciato nello stesso modo in tutto il mondo anche il titolo di questa importante manifestazione io credo che gli aretini dovrebbero riflettere sulla grandezza della nostra città oggi è un giorno particolare, scopriremo tra poco questo monumento intitolato in onore di Guido d'Arezzo, l'augurio che io faccio a questa città è di avere un futuro degno di questi grandi nomi del passato quindi grazie ancora a tutti, alle orchestre, alla fanfara dei Carabinieri vi aspettiamo tutti questa sera al Teatro Pedrarca per il concerto finale grazie grazie al nostro sindaco Arezzo in effetti è un culturale di iniziative culturali non soltanto musicali ma anche folcloristiche ed ora il prefetto di Arezzo, la dottoressa Alessandra Guidi saluto a tutti, anche io mi accorgo la parola del sindaco ecco, oggi è una festa della musica ma la festa anche della città di Arezzo ma anche la festa per il nostro paese io credo che oggi non solo celebriamo un grande genio ma credo che celebriamo anche un genio che è dentro ognuno di voi cittadini di Arezzo ecco, credo che in questo anno che insomma ho potuto passare insieme a voi ho potuto constatare che questo genio della musica che come diceva il sindaco, per scrivere un linguaggio universale per scrivere un linguaggio che parla al cuore bisogna avere qualcosa di speciale nella mente e nel cuore e credo che i cittadini di questo territorio abbiano qualcosa di speciale dentro io l'ho potuto constatare di persona quindi veramente oggi credo che di questo voi dovete essere orgogliosi e da questo, come diceva il sindaco, dovete ripartire per costruire veramente un grande futuro quindi oggi non è solo una giornata di commemorazione ma è una giornata veramente per pensare a un grande futuro non solo per la nostra città, per la nostra provincia ma anche proprio per i nostri paesi quindi veramente un grazie a tutti non solo viva Guido Monaco ma viva Arezzo e viva Italia grazie tributare un applauso all'artista e procedere alla scopertura e al taglio del nastro della targa dedicata a Guido Arezzo grazie a tutti il coro ha eseguito l'inno latino a San Giovanni l'inno dal quale Guido Monaco trasse i nomi per le sue note musicali utqueant laxis affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni cancella il peccato del loro labbro contaminato o San Giovanni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il 4 settembre 1882 al teatro Pedrarca in occasione dei festeggiamenti per la statua che si era inaugurata pochi giorni prima a Guido Arezzo si tende una grande accademia vocale strumentale la quale fu eseguito l'inno marcia a Guido Monaco composto dal maestro Luigi Mancinelli su parole di Enno che riascolteremo dal nostro coro con la quale franzo di San Giovanni seguitaremo dal nostro coro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.